Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio fino al 30 aprile. Sempre in A1 per lavori di pavimentazione, domani notte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze in Bruneta in entrata verso Roma e in uscita provenendo da Bologna. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata tra i chilometri 278.900 e 279.500 circa nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!